Raff, ma Angel? T'ho detto 3 yarda, quindi sta zitto Ah ok È il suo modo di giocare Quando sta zitto ragazzi bisogna avere paura di lui Comunque ragazzi io non posso fare più di quello che sono Mi ruolo del culo perché là ho fatto tutto di più per non farti morire e per non far morire Mirko Ma non è che Per carità se mi impegno sono anche fortino però Se ho 300 miliardi di persone che mi sparano in diverse parti capite che non è possibile Hai bisogno di una mano Zef No Ok C'è bisogno di là Più che altro Non sto trovando armi Ok No, io ho detto che quando ti muti è un tuo modo per tryhardare Aspettami, aspetta, aspetta Ma io non lo sento O mi ha mutato, mi ha bloccato No, 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 no Non lo sento neanche io Ma mi scrivo in chat Tommy, mi Ah no, te le volevo lasciare io Lascio il mio Aspetta, aspetta Questi le utilizzi meglio te che io Oh, un traletta verde Buono Se serve aiuto ditene Sì, sì, te lo credo Oh, ho portato i cildini a Mirko Ah, ecco perché mi stava laggando Perché mi stava installando cross-out Dai Dai, yes Ma lascio un XP blu Perché? Ma l'ultimo intero, cazzo Come l'ultimo intero? È squagliato, è bianco Arrivo E il silver ci siamo Ma io pensavo fosse 33 33 Porca troia E vabbè, ma come? Ma io pensavo fosse Detrita Ok prendendo la scheda di angelo tornando tornando più i ragazzi il primo posto lo possiamo prima posto lo possiamo salvare se volete con rampino vado a borgo fino a borgo vabbè vado io raga voi provate a fare cose ma solo c'è un nuovo e prova a salvare angelo ma è possibile che noi non abbiamo sempre il cazzo di team interi che momenti ci squagliano no vabbè come si prende danno come si prende danno guardate che fai che hanno fatto lì avete colpirazzo colpirazzo raga aspetta un momento no solo col piccicchino si stanno dando la stronzola andiamo a push alle raga si va bene non lo prendo il mio addosso non lo prendo lui mi prende mi sembra giusto poi la gente mi viene dire no sei tu che c'è la mira di merda se io li sto sparando no e il mira è sopra di lui e non mi da la hit io che cazzo devo fa tu mamma 114 a 1 hai visto la razzata che le ho dato sbaglio dove è stato oh non sbaglio dove è mi serve un razzo raga ma dove cazzo la gente è vabbè vabbè mi sembra ovvio no non volevo questo volevo questo volevo questo ma non mi fa prendere la scheda pensa te ok occhio c4 no vabbè raga no 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 raga dai raga vabbè da vabbè mi rifiuto si ma addio benedetto mi rifiuto di giocare così però raga però raga cazzo cioè siamo tutti morti e lui intanto si va sotto terechina si va sotto terechine troppe armi raga troppe troppe armi ci sei raff si si no ti sto dando ragione perché in effetti sono troppe armi op più che altro non tanto la quantità dell'armi ma la qualità delle armi troppe armi minigun e c4 e poi cos'è lato il rampino infinito troppo insieme cioè non è male il problema proprio con larmi che c'è gestiato prima mi sembra normale ma com'è che angelo nel pompa io lo volevo dal pompa ho detto di no poi ogni tanto sto gioco non lo so che cazzo c'ha tipo si bloccano i comandi e fa le cose in ritardo si chiama delay no vabbè si chiama di lei ok però io vedo che non lo fa solo a me vedo che lo fa anche a voi è proprio il gioco ho capito ma c'è qualcosa che non cosa nel senso non va bene ti mette in difficoltà io vedo che con questa cosa rimette in difficoltà pure a voi non solo a me tipo il tattico che dovrebbe sparare pam 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 e questo in certo capo ma che cosa 95 vabbè è una parola si sparano ma prendi il tattico blu e guarda caso non lancerà zi e guarda caso esatto mi fa incalcare madonna e vabbè se non vincerà ti vuoi divertire un altro po' con sto cazzo lancerà zi no perché mi sembra che si è divertito abbastanza e poi grande dove vengono fai fai sono nabisti qua c'è vincontri soltanto di espressioni non dica dottore è che quello con lancerà zi mi ha rotto i pali o ragazzi c'è noi ci lamentiamo delle armi della mancanza delle armi su oh ma i miei compagni di classe mi hanno rotto veramente le palle cioè è da tre mesi che sono stato interrogato in antologia e mi chiedono ancora ma si è stato interrogato in antologia ma si è stato interrogato in antologia sì grande grande incredibile incredibile c'è la fama cioè regà allora adesso siccome questo diventerà un video vogliamo vogliamo un attimo parlarne eh ne vogliamo un attimo parlare ne vogliamo un attimo parlare di quanto no 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 di quanto cazzo fanno schifo i player di oggi su fortnite quanto solo vi 4 devo fare boh vabbè vabbè bravo no senti se mi avete visto in attivo perché non stavo giocando eh sono chiamavano mille persone eh super catch me on side meme their pickle brick meme man fuck normie when I die bury me inside a Gucci cup and make kiss all day in the rain no stop and jay kill josh ain't make tracks too often I don't need a gold chain cause we're too damn awesome when I die bury me inside a Gucci cup and make kiss all day in the rain no stop and jay kill